Cherasco, Cuneo, ieri sera, 3 ottobre, un'auto guidata da un 68enne, è sbandata precipitando per un centinaio di metri sull'autostrada Torino-Savona. L'incidente è avvenuto nei pressi del cavalcavia 41 sull'autostrada A6, nel circondario cheraschese. L'auto ha cominciato a sbandare perdendo il controllo e sfondando il guardrail, è precipitata per un centinaio di metri. Da ogni tentativi dei soccorritori, l'uomo alla guida è morto sul colpo, sul posto la Polizia Stradale per i rilievi del caso e per stabilire le cause dell'incidente.